Buonasera a tutti e benvenuti al consueto appuntamento del punto di Giovanni Snioli, un appuntamento quindicinale, dove grazie alla radio, Radio Science, ho la possibilità di esternare quello che penso, che è la possibilità di sentire, di catturare e di fare delle riflessioni in merito. Ultimamente la riflessione è questa, ultimamente se ne parla sempre, se ne parla molto di ecologia, però succedono anche dei fatti che ci stanno a dire che l'ecologia, l'ambientalismo è un business e molte volte, senza molte volte, quello che a noi sembra una soluzione al male che stiamo trattando, stiamo vedendo, invece la soluzione è business per un altro settore, sempre settore capitalistico perché produciamo sempre merci e finché esiste questa società basata sul profitto, quindi sul lavoro salariato, sullo sfruttamento delle risorse della terra, che è quella che ci dà da vivere, non ci sono soluzioni finché esiste questo sistema, il sistema di produzione capitalistico. Oggi iniziamo quindi, per sostenere questa tesi, inizio con un articolo apparso non molto tempo fa, è precisamente il 2 maggio, dove lo scrittore ambientalista George Monbiot scrive sul Guardian e scrive una cosa molto interessante e dice che ci sono due, almeno due motivi oggi, per ritenere che il capitalismo è superato, questo sistema è superato, non lo dice un esperto di politica, ma lo dice un ambientalista e i motivi sono, il primo, il capitalismo è intrinsecamente fondato su una crescita continua ed è vero, vediamo, siamo tutti allarmati perché il PIL, è sinonimo di crescita, non è sinonimo di benessere, è sinonimo di crescita, cioè di produrre di più, potrebbe essere anche il disinquinamento o produrre barre per i morti e se ne produciamo di più fa crescere il PIL, che dice che è fondato su questa crescita continua senza di questa collassa, ed è vero, è un fondamento importante questo, cioè quella della continua crescita, ma una crescita continua e un ambiente di risorse finite porta inevitabilmente alla catastrofe, un sistema basato su una crescita perpetua oltretutto non può funzionare senza periferie e esternalità, ci deve essere sempre una zona in cui rifornirsi di risorse senza pagare al prezzo pieno, è una zona dove liberarsi dei costi, sono sotto forma di rifiuti e inquinamento, quando la scala dell'attività economica aumenta, ecco che il capitalismo sacrifica tutto, dall'atomosfera ai fondali, oceani, cibi profondi, non c'è angolo del pianeta che venga risparmiato a questa logica del profitto. Allora giustamente lui individua due zone, la zona delle periferie, senza creare periferie, da una parte dove ci sono le materie prime e lo vediamo, è un dato di fatto, dove ci sono le materie prime ci sono le persone che vivono molto male, pensate all'Africa o anche all'America meridionale e dove poi ci scaricano anche i costi dello smaltimento, cioè i rifiuti, si scaricano lì. Continua Giorgio Monbiot che conclude, sempre su questo articolo passo sul Guardian, che non può esserci una crescita verde, cioè sostenibile. Dice cose molto forti. Come non può esistere un capitalismo buono? Da un punto di vista ambientale, la creazione di ricchezza è sempre un saccheggio. Taglia corto Monbiot, perché la crescita economica presuppone il saccheggio di risorse naturali che oltre ad essere anche di altre forme di vita, pensiamo che noi umani non siamo l'unica fonte di vita sulla Terra, noi siamo così perché c'è stata un'evoluzione, però ci sono anche gli altri animali, senza gli altri animali, senza le piante, anche noi non esisteremo. Quindi continua altre forme di vita, gli animali e le piante appartengono alle generazioni future, non tanto tempo fa. a pochi giorni fa dicevano che sono in pericolo delle specie animali e sappiamo che una volta rotto quell'equilibrio che ci permette anche noi di vivere, l'allarme è grosso. Però, ma questa crescita continua, che cosa comporta, dico io? che pur di vendere merci, le multinazionali, cioè quel famoso 1% come tante volte il movimento Oppo e Wall Street ricorda, che è l'1% che detiene tutta la ricchezza, quindi mezzi e anche di produzione, ci obbliga, ci indirizza, manipola il consenso attraverso i media che pure loro sono posseduti da pochi industriali. Come ci fa a manipolare? L'esempio classico, lo porto, è questo. Vi ricordate non tanto tempo fa, mi sembra un anno fa, ci veniva detto che contro l'inquinamento da plastica dei mari c'era la soluzione, la soluzione erano i sacchetti biodegradabili, quei sacchetti che sono stati obbligati a mettere in vendita ai supermercati che noi paghiamo e questo sembrava risolvere il problema. Invece uno studio del Environment Science and Technology, questo studio del 30 aprile di quest'anno, dice che i sacchetti biodegradabili restano intatti in mare anche dopo tre anni. Sacchetti di plastica biodegradabili, come quelli introdotti oltre un anno fa nei supermercati italiani ed europei, restano intatti per oltre tre anni, se abbandonati in mare o sepolti sottoterra. Non solo non si degradano a contatto con gli agenti atmosferici o con l'ambiente naturale, ma sono perfettamente in grado di svolgere il loro lavoro, contenere la spesa come prima. A sorpresa i sacchetti biodegradabili non hanno mostrato una performance migliore di quella dei colleghi di plastica. Però le leggi ci hanno imposto questo, non troviamo più giustamente secondo me sacchetti di plastica, ma non è cambiato nemmeno il sistema come abolire la plastica, perché è nociva, perché la plastica comunque c'è qualcuno che fa i sacchetti biodegradabili e con il sistema di dover produrre ogni anno sempre di più dell'anno precedente, quindi anche questi che producono sacchetti biodegradabili devono produrne di più, ma per produrne di più bisogna anche consumarne di più. E via via c'è questo cane che si morde la coda. Vi porto un altro esempio. La Burgin King lancia il suo Whopper di carne artificiale con una pubblicità realizzata con intelligenza artificiale. Memphis Meats produce un macinato di carne artificiale coltivando un tessuto proteico che simula il muscolo del bovino. Due filoni di ricerca. La produzione del tessuto simil carne da vegetali geneticamente modificati e la produzione di carne a partire dalle cellule staminali di bovino fate crescere in ambiente nutritivo. In entrambi i casi la parola d'ordine è salviamo il mondo dell'ecocidio, come da bestseller di Jeremy Riffning. Riffning è un economista che ha scritto più libri sull'ambiente e i disastri che sta creando, tipo la produttività, la crescita costo zero. È vero che gli elevamenti intensivi e il consumo eccessivo di carne sono assolutamente irrazionali, ma basterebbe mangiarne meno carne per risolvere il problema. In realtà il capitalismo è un modo di produzione insofferente verso qualunque cosa ricordi un ciclo, nascita e morte. Cioè anche lui, il sistema capitalistico è nato e dovrà morire e muore nelle sue contraddizioni. Poi non sappiamo se la sua morte è anche la nostra della specie, però è così. Un uomo ci mette nove mesi a nascere, un computer un'ora a pochi minuti, dipende da come è organizzato il ciclo di produzione. Quindi anche qui il problema della carne, per quanto si dica mangiate carne italiana, il problema è che bisogna produrre sempre di più dell'anno precedente. Non c'è un piano di produzione dove lo scambio tra uomo e natura sia organizzato in modo tale da poter soddisfare i bisogni della collettività e tutti abbiano gli stessi accessi agli prodotti e alle risorse della terra. Assolutamente non c'è. E l'uomo in fondo è ciò che mangia. Diceva un filosofo, Ludwig Forbach, questo filosofo scrisse che l'uomo è ciò che mangia. Sosteneva che è impossibile credere nel dualismo anima e corpo perché siamo fatti di materia che ci circonda. Mangiare meglio fa pensare meglio, diceva lui. L'uomo è un organismo fisico input e output, entra cibo ed esce diciamo pensiero. Beh esce anche quello che oggi si butta via e che i cinesi una volta, ammirati da un altro scrittore Bebel, uno che scrisse La donna e il socialismo, un bellissimo libro che invito tutti ad andare a leggersi e quindi questi cinesi una volta restituivano la terra, quello che noi poi dopo mangiarne facciamo delle scorie, cioè buttiamo fuori, beh i cinesi una volta lo riportavano alla terra e quindi dalla città lo portavano alla campagna. Non sto qui a spiegarvi come, ma se leggete il libro di Bebel, Bebel è del 1800, quindi voglio dire ci sono di queste persone illuminate che raccolgono in giro per il mondo quei sistemi migliori, sarebbe per far sì che questo scambio organico uomo e natura possa continuare. La recente dice oggi Liebnik riteneva che Liebnik è l'inventore, cioè non l'inventore, quello che disse che la chimica poteva sostituire, non disse proprio precisamente questo, ma attraverso i suoi studi analizzò e dice che i prodotti che noi mangiamo sostanzialmente è chimica, perché i prodotti succhiano dal terreno i sali minerali, il ferro eccetera, noi mangiando integriamo quello che a noi è bisogno. Quindi Liebnik riteneva che la riproduzione chimica dei fertilizzanti naturali fosse il loro equivalente. Cioè è vero, ma nell'Ottocento si pensava a un emendante, cioè qualcosa in più, non a un sostituto totale come esiste oggi. Oggi la sostituzione della chimica all'etame è completa e si galoppa verso la sostituzione anche del cibo a monte. La recente bistecca artificiale non è che una delle tappe di questo percorso. Potremmo pure essere contenti, spariranno i crudeli allevamenti intensivi e di conseguenza i fattori di uno dei peggiori fenomeni inquinanti e di fame, dato che la cara bistecca è il risultato di una immane dissipazione di cibo primario, soprattutto cereali e soia. Quindi dov'è il problema? Basta non mangiare carne dall'allavamento o artificiale che esso sia. Si vive benissimo senza, giusto? È insensato mangiare troppa carne? Non è sano mangiare anche poca di quella che ci propinano. Facciamone a meno anche se se ne parla e non se ne parli più. E già che ci siamo facciamo a meno di tutta la schifezza prodotta dalla grande industria alimentare. Torniamo alle natura, mangiamo sano, mangiamo tutti, abbasso la Bayer o la Monsanto, abbasso chimica e cibo transgenito. Non si può non essere d'accordo. Però un momento, che cosa mangiamo se rifiutiamo chimica e OGM? Non è che occorrebbe rifiutare ben altro. Molti ricorderanno una campagna pubblicitaria di qualche anno fa. Niente chimica, tutto prosciutto. Ecco, quello è il paradigma su cui si basano le campagne di marketing, cioè vendita di mercato. Nessuno si sognerebbe una pubblicità basata sul dato autentico, prosciutto di Parma, tutta ottima chimica. Eppure noi stessi siamo un laboratorio chimico naturalissimo. Non è che la chimica ci rovina e nemmeno la mutazione genetica dei cibi. Nel supermercato vediamo allineati sugli scaffali esclusivamente cibi dovuti a selezione artificiale. Riso, pomodori, grano, mais, cavoli, agrumi, tutto. Voltiamo le spalle e avviamoci verso gli scaffali del reparto bio. Ci sono gli stessi prodotti, solo che confezione diversa o di provenienza diversa. costano solo di più. In cambio di una garanzia quasi sempre fasulla, come dimostrano diverse inchieste e analisi. Il segreto è nel nome che tutto accumula, cioè la merce, basta vendere. E ogni denuncia per frode puzza semplicemente di concorrenza. Infatti molte volte la frode viene segnalata alla finanza dalla concorrenza perché vende poco. Comunque nemmeno l'orticello privato si salva. Semi e piante sono tutti transgenici e l'ambiente fa il resto. Se l'aria è inquinata quando piove l'inquinamento cade a terra e le piantine del nostro orto coltivate con tanto amore, anche loro, magari in minore quantità, però l'inquinamento se lo assorbono. Mangiamo pure prodotti a chilometro zero, ma poi non andiamo in estasi per Italy, che esporta cibo in tutto il mondo. Sensibilizziamoci pure alle campagne dell'Eco e Sudilale, ma leggiamoci anche qualche libro sulla natura autoreferenziale, parassitaria e colonialista del sistema ONG. Andiamo pure a convincere un contadino, provate, africano, a non usare semi ibridi, ma non cadiamo dalle nuvole se questi non ci ascoltano. Non vorrà produrre tre volte di meno per fornire prodotti esotici, bio, a noi capricciosi, perché poi la merce che mangiamo viene quasi tutta da quei paesi. Elogiamo pure l'estetica slow food, ma confrontiamo i costosi ristoranti per avventori benpasciuti con le cucine da campo, dei lager per profughi sparsi nel mondo, o i lavoratori extra comunitari delle nostre compagne, come lavorano, a due euro all'ora. vogliamo mangiare naturale? Semplicemente oggi non si può. Piantamola di frignare sulla natura perduta, noi siamo natura, se vogliamo il capitalismo mangiamo la merda che ci dà, che cuciniamo noi stessi, senza illusioni. Bene, questo è il nocciolo, cioè il sistema. Non ci sono soluzioni se esiste il sistema capitalistico, perché il sistema capitalistico è come detto prima, deve produrre di più per vendere, per il mercato, non per la specie umana che deve vivere in armonia con lo scambio organico, con la natura. Ho letto in questi giorni di pioggia, visto che non si può fare una passeggiata lungo le rive del piave, come amo fare. Ho letto un libro, si chiama Il Grande Carello, che potete trovare benissimo su internet, ripeto, il titolo è Il Grande Carello, sottotitolo Chi decide cosa mangiamo. Vi leggo questo piccolo brano che parla degli agricoltori della Piana del Sele e il libro è di Fabio Ciconte e Stefano Liberti. Questo episodio racconta una cosa che noi troviamo al supermercato facilmente, l'insalata in busta nel supermercato, già lavata, pronta per l'uso. Ma dietro quella busta cosa ci sta? Abbiamo detto più volte che il costo non ci dice la provenienza, non ci dice come viene prodotta a quella cosa, ma soprattutto noi non confrontiamo il vero prezzo. Il prezzo dell'insalata, quella insalata, della rucola lì che troviamo, ci sembrano pochi soldi, però se noi andiamo a confrontarla ci costa circa 10-11 euro al chilo. Ma leggiamo a pagina 144 di questo libro, questa della Valle del Sele in Italia. Gli agricoltori della Piana del Sele si sentono ormai degli industriali, per loro mostrarci l'azienda non vuol dire portarci nei campi, farci vedere la corte dei prodotti, raccontarci le diverse varietà. Per loro quindi vuol dire esibire macchinari preposti al lavaggio dell'insalata e camere refrigeranti per la conservazione prima della spedizione. Tutti gli imprenditori che abbiamo incontrato nella zona hanno ripetuto la stessa scena, ci hanno parlato più del scafale prima della scadenza, che di proprietà organolettiche, di catene del freddo più che di sementi. Come logico e come approccio sono in tutto e per tutto industriali. Questa frase si ricollega a quello detto prima, non alle proprietà organolettiche del prodotto o dei semi. No, gli autori venivano portati a vedere come si lavava la verdura, i trattori e le altre cose. Ma andiamo avanti. La cosa più sconcertante, ma in realtà ha molto senso, perché il valore giunto di quello che fanno sta proprio nell'elevato contenuto di servizi, ossia lavaggio, imbustaggio e conservazione. E attraverso queste operazioni che gli imprenditori locali, insieme alla grande distribuzione organizzata, hanno trasformato un prodotto povero, come la rucola, che una volta si raccoglieva ai margini dei campi, dove cresceva spontaneamente in un gioiello da vendere a 10 euro il chilo e da esportare in tutta Europa. Oggi la Piana del Sele è il centro sistemico della produzione di questa e di altre varietà di insalata in busta, insieme al polo complementare del bergamasco. Ci sono aziende grandi con giro d'affari rilevanti. Alcune come il gruppo Rago producono sia per le private label della grande distribuzione, sia con il loro marchio. Oltre la altre, scusate, la maggioranza, vendono i propri prodotti e la Bonduelle, la multinazionale francese del settore, che ha un impianto a battipaglia. Questo sviluppo, come si diceva, è relativamente recente, ma come e quando è successo che gli agricoltori di eboli e dintorni sono diventati gli alfieri della quarta gamma, così viene detta, la grande distribuzione ai supermercati. La trasformazione dell'aria, dell'aria quindi del Sele, è dovuta in larga parte alla divisione di un'unica persona, un agricoltore bergamasco di nome Santo Bellina dei Tottino. È lui che in un giorno di quasi trent'anni fa ha deciso di scommettere su questo territorio allora depresso. Bellina stava girando l'Italia per cercare aree coltivabili in cui esportare le esperienze della quarta gamma, già provata con successo dalle sue parti. È approdato nella piana del Sele, ne ha visto le enormi potenzialità e ha convinto alcuni agricoltori locali a produrre insieme a lui. Nel 1990 ha aperto un impianto di trasformazione che gestiva tutta la filiera col marchio Orto Bell. Facevamo soldi a palate. Pensate che un anno abbiamo fatto da sponsor all'Atalanta. Abbiamo dato alla squadra un miliardo di lire solo per avere il nome stampato sulla maglia. Bellina oggi vive tra Bergamo e la Piana del Sele. È un uomo diretto e appassionato a cui la ricchezza non ha dato alla testa. Ogni volta che scende al sud dormi una casa di legno pefrabicata nella sede della sua azienda. Quando lo incontriamo ogni assoluto giorno estivo si presenta in camicia a quadrettoni e scarbe da ginastica. Bellina ama raccontare la sua esperienza. Ci parla del passato, di come ha convinto gli agricoltori locali a fare insalata, di quando si è messo a produrre e del futuro. L'imprenditore bergamasco ha fatto il percorso inverso di quelli di molti di suoi omologhi locali nel 2001. Ha ceduto la sua Orto Bell, che fatturava all'epoca 120 miliardi di lire, alla Bonduelle. Ha deciso di dedicarsi solo alla produzione agricola, sempre alla ricerca di innovazioni. La sua è un'autorevolezza senza pari da queste parti, è una specie di mito. Dovremmo fargli una statua, dicono i molti. Se la Piana del Sele è diventata quello che è ora, in larga parte lo si è dato a lui, alle sue intuizioni e al suo spirito imprenditoriale. La Piana rappresenta l'integrazione tra un sistema agricolo e uno industriale, un distretto aggo industriale redditizio. In ciò, in linea teorica, non c'è nulla di male. I mari agricoltori vivono bene, fanno reddito e in qualche modo seguono il mercato. Nessuna contraddizione? Ed ecco arriviamo al punto. In realtà ce ne sono, e anche parecchi. Sono gli stessi imprenditori dell'uovo, o almeno alcuni di loro, a metterle in luce. Il territorio è saturo. L'elevato fa bisogno di acqua, l'eccessivo utilizzo delle falde acquifere con innalzamento del cuneo salino, il compattamento dei suoli per l'eccessiva meccanizzazione, le serre insieme al sovrapascolo e alla disordinata urbanizzazione hanno incrementato un degrado del suolo che non promette nulla di buono per il futuro e per il territorio. La continua richiesta da parte della grande distribuzione e dei consumatori e l'alta redditività del prodotto hanno spinto molti a spostarsi su questo settore, ad aumentare la produzione, a inondare di tensostrutture tutta l'aria. Oggi la concentrazione di serre è elevatissima e crea problemi di allagamenti in caso di pioggia perché i terreni impermeabilizzati non riescono ad assorbire l'acqua. Dopo le decine di casi di esondazioni qualcuno ha cominciato a chiedersi se il modello fosse sostenibile. Qualche accorgimento è stato preso dalla regione Campania e dai consorzi di bonifica in destra del fiume Sele, cioè l'organismo che deve dare le autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti. La chiave è l'invarianza idraulica, sostiene Vitto Busillo, presidente dei consorzi e imprenditore agricolo della zona, ma lui ovviamente è produttore di rucola. Gran parte delle serre sono dotate di moderni impianti di raccolta e canali di scolo per trattenere le acque e riutilizzarle. Così se il terreno non è più facile di assorbire, ci pensa la tecnologia a governare il flusso dell'acqua. Busillo non fa fatica da mettere che ci sono troppe serre, troppa produzione. È la stessa regione Campania ad alimentare questo meccanismo attraverso i piani di sviluppo rurale, che danno forti sovvenzioni per la sostituzione di tensostrutture, fino al 70% del costo, 90% se sono destinate a produzione biologica. Se pensiamo per costruire un ettaro di terra ci vogliono 100.000 euro, risparmia davvero tanto e induce anche i più riattosi a fare un investimento i cui rischi sono limitati. Ci sono poi alcuni punti critici non secondari. Il lavaggio, quindi il lavaggio della verdura, richiede un'enorme quantità di acqua, tra i 5 e i 10 litri per ogni chilo di prodotto prima del taglio, a cui vanno sommati 3-5 litri dopo il taglio. Se a questi si aggiunge l'acqua necessaria alla sanificazione giornaliera degli impianti, raggiungiamo numeri importanti. Soprattutto se pensiamo che queste operazioni non fanno altro che sostituire quella che fino a qualche anno fa era una prassi ordinaria quotidiana, lavare l'insalata a casa. C'è poi il costo energetico di quella che è una vera e propria industria della refrigerazione dell'acqua agli impianti, di asciugatura delle celle per la catena del freddo, fino a derivare ai potenti frigoriferi presenti nei supermercati. Già, i supermercati. Torniamo dal campo alquarello in cui il cliente programmatico ha messo la sua busta nell'insalata. Consideriamola nella sua interezza. C'è il cibo, ma soprattutto c'è l'involucro. In pratica il programmatico ci sta spendendo 10-15 euro al chilo per un'insalata che non è solo il prodotto in sé, ma è soprattutto una confezione di plastica o in alcuni casi due. Vaschetta con plastica a copertura. Dopo il consumo, questa imponente quantità di materiali difficili da riciclare finisce nell'ambiente. A differenza del corrispettivo fresco che costa 7-8 volte di meno, il confezionato produce scarti spaventosi che poi bisognerà in qualche modo smaltire. Io aggiungo, poi vanno a finire in mare, anche tutta la plastica delle serre dove va a finire. Il prodotto è indubbiamente comodo, rientra a casa, non abbiamo fra l'altro che aprire la busta, riversare il contenuto in una ciotola e condirlo. Ma subito dopo cosa faremo? Butteremo busta e vaschette nella spazzatura quando va bene, nella differenziata. Il prezzo sproporzionato che paghiamo per la nostra insalata, già lavata, non va a coprire la esternalità negative, anzi, le accentua, perché la quarta gamma ha fatto aumentare in modo esponenziale l'uso di plastica nei supermercati e la tendenza appare inarrestabile. Chiudo, ritornando al nocciolo di prima, che è quello che in una società capitalistica, dove quello che si fa quest'anno deve essere minore di quello che si fa l'anno precedente, deve essere maggiore di quello che si è fatto l'anno prima. Non interessa, ho voluto leggere, magari vi ho tediato, la testimonianza di questi due scrittori sul libro, riportata dal libro, il grande carello e il nocciolo è questo, se vogliamo questo sistema che produce quello che produce l'inquinamento di conseguenza, se vogliamo continuare a mangiare, merda, come la mangiamo, non possiamo lamentarci e tenere questo sistema. Spero di aver dato alcuni punti di riflessione, vi ringrazio che siete sempre numerosi ad ascoltarmi, io spero che questo silenzio su queste cose possa prima o dopo cadere. Noi siamo qui. Ciao a tutti e ci risentiamo alla prossima. Buona serata.